Siamo qui a manifestare tutta la nostra determinazione nel riuscire a bloccare questa legge truffa. È una legge davvero pericolosa per i cittadini e quindi non molleremo assolutamente. Abbiamo presentato come opposizioni 16.000 vendamenti, abbiamo qualche centinaio di ordine del giorno. Ora vediamo un pochino come reagiranno loro. Noi chiediamo una moratoria, vogliamo effettuare il referendum prima della riforma sanitaria. Assolutamente e da questo non rinunceremo a tutte le possibilità che la democrazia ci offre per contrastare questa riforma che è mirata a fare tagli. Risponde solo al bisogno di risparmiare da parte del governo nazionale. La stabilità di bilancio, la stabilità di bilancio ormai è chiarissima, è un sistema per governarci, non per farci governare. È proprio una truffa incredibile.